Noi abbiamo visto che cosa vuol dire quando lo spread era a 500, ce lo raccordiamo no? Lei è sicuro che veramente quell'indicatore lì... Non sono passati molti anni, allora quando uno deve rientrare in quel momento effettivamente Monti l'ha fatto quella che in realtà sarebbe una... è la cattiva mossa riguardo all'austerità cioè aumentare le tasse, rientrare aumentando le tasse, mentre invece... e questo è negativo invece rientrare riducendo le spese, questo è positivo Ma mi perdoni, lei considera l'esperienza di Monti un'esperienza felice? Perché era tutto dentro quelle regole europee, era l'ortodossia delle regole europee Non mi sembra che la crescita ci sia stata In che senso? No, vedi, bisogna pensare a quello che sarebbe potuto capitare se non si fossero prese quelle misure Viene il programma, veniva la troica, cioè la Grecia Lei dice, la troica sarebbe arrivata Non è arrivato un uomo della troica? Monti? Come? Monti secondo lei non era voluto da Monti È stato un colpo di Stato finanziario quello di Monti Ma non diciamo, ma non diciamo io sì Di Silvio Berlusconi è stato buttato giù Buttato giù, sì, ha dato le dimissioni Berlusconi ha dato le dimissioni Avrei detto l'articolo che ha scritto questa mattina Politori Si è trattato di un colpo di Stato, chiamato governo tecnico Ha fatto le dimissioni, un governo che dà le dimissioni se ne fa un altro Le dimissioni sono avvenute a seguito di pressioni fortissime da parte della... In quel momento il Presidente della Repubblica ha considerato che non fosse il caso di convocare i Comizi elettorali Che secondo me ha fatto bene e ha dato... Non voglio fare la storia che siamo noi, però voglio Feltri che stava brontolando Ma no, ma non si possono dire queste cose così false e impunemente Insomma, non c'è stato nessun colpo di Stato C'è stato il governo Berlusconi che aveva lasciato un buco di 20 miliardi nei conti Una manovra che stiamo ancora pagando adesso con le clausole salvaguardia che si trascinano di anno in anno E a un certo punto era completamente incapace di gestire la situazione Nel momento in cui c'era intorno all'euro, intorno all'Europa Un clima di diffuso scetticismo dovuto al fatto Tra le altre cose che la Grecia aveva truccato i conti per circa 10 punti di PIL In quel momento il governo Berlusconi è andato completamente in panne Ce lo ricordiamo benissimo Tanto che va a Nizza, a Canna scusate, al G20 famoso del novembre Senza aver preso nessuna misura per dare un segnale a mercati che avevano perso la fiducia nell'Italia A torto ha ragione, non ci volevano più prestare i soldi È molto semplice Un colpo di Stato A quel punto arriva il governo Monti E il governo Monti non è stato l'uomo della Troica È stato l'uomo che ha scelto di non avere la Troica in Italia Nel momento in cui intorno a Monti c'erano persone che gli dicevano chiedi la Troica Fassina, io mi ricordo che Fassina Non è vero che lui era la Troica Qualche idea in proposito se l'è fatta E' stato un uomo della Troica Magari non battezzato dalla Troica Ma le ricette quelle erano Ma certamente sì Io ricordo a tutti che agosto arrivò una lettera dalla BCE firmata da Trisce allora che era il presidente della BCE Che entrava nel merito anche delle riforme costituzionali che si dovevano fare in Italia È evidente che Berlusconi ci aveva messo del suo, c'era una caduta di fiducia Ma di fronte a quella situazione le reazioni possibili sarebbero potute essere diverse E Monti ha applicato l'agenda della Troica L'ha fatto senza che ci fosse un programma formalmente scritto Ma più della legge Fornero Che cosa si sarebbe dovuto fare sulle pensioni?